Ciao a tutti, secondo video della giornata, infatti mi vedete con la stessa maglietta con cui ho girato il video su Yoli perché avevo voglia di fare una skin care insieme a voi e fare due chiacchiere anche per farvi vedere qual è la mia attuale skin care allora, ho già lavato il viso e ho applicato il tonico adesso procediamo con quello che faccio io allora, intanto mi munisco di salviettine umidificate perché vi faccio vedere, mi serve pulirmi le mani tra un passaggio e l'altro allora, intanto applico il Matrixil, la niacinamide e il buffe più copper e li applico così, parto con la niacinamide e nel frattempo facciamo due chiacchie allora, la niacinamide io la insisto nelle zone in cui ho le problematiche quindi macchie, pori dilatati e discromie allora, faccio questo video perché, intanto vedete il biondo e vedete già la crescita una crescita pazzesca ragazzi, ho fatto il colore sabato la decolorazione l'ho fatta sabato, è passata 5 giorni e guardate già la crescita allora, dicevo faccio questo video perché avevo voglia di fare due chiacchiere non ho mai affrontato questo argomento sul canale, credo ora applico il Matrixil il Matrixil serve per assottigliare le rughette è un potente anti-age questo invece lo metto ovunque labbra comprese è contorno occhi anche allora, dicevo non ho mai fatto un video del genere fondamentalmente perché non mi è mai non ci ho mai pensato sinceramente a fare un video del genere ma perché? perché in tanti anni di canale non è un argomento che ho mai voluto trattare ma non perché io non ci tenga o perché ma perché fondamentalmente allora, come sapete bene io ve lo ripeto sempre io ho una certa età a settembre io faccio 41 anni quindi comunque sono una donna adulta e io sono sempre stata una bambina ero una bambina molto insicura adesso applico il buffet più copper che vedrete è di questo a meno colore azzurro caramella smettila sentire da bagliare il cane perché questo è l'orario in cui tra poco torna mio marito e quindi le fa come una pazza dicevo io sono sempre stata una bambina molto timida molto chiusa lo so che a vedermi adesso è difficile da credere però è così dicevo quindi sono sempre stata una bambina molto chiusa molto molto insicura bullizzata perché portavo gli occhiali perché ero piccolina perché ero magretta perché non rispecchiavo gli stereotipi della ragazza dei miei tempi quindi non vestivo alla moda fondamentalmente le cose che succedono anche adesso succedevano anche i tempi miei cioè non è che è cambiato molto cioè non è cambiato niente veramente solo che prima se ne parlava meno prima non era come adesso non c'era attenzione per il fenomeno del bullismo ma il bullismo lo subivamo anche noi alla mia età nella mia adolescenza solo che se ne parlava meno adesso faccio una cosa che voi non so se in questo bicchierino con questa palettina io mischio un po' del mio acido ialuronico questo di Flower Tales con i miei olietti perché lo passo con il GF dicevo quindi io sono sempre stata una ragazzina magrina così insicura spaventata bullizzata presa in giro addirittura io non so se ve ne ho mai parlato olio di canapa non so se ve ne ho mai parlato ma non credo comunque io avevo avuto diversi persecutori tra virgolette cioè ragazzetti bulli che mi mi perseguitavano mi insultavano questo è il picogenolo che mi insultavano mi insomma si prendevano gioco di me negli anni quindi io che cosa ho fatto resveratrolo negli anni io mi sono fortificata mi sono fortificata perché perché fondamentalmente ho capito che o così o mi mi facevo la corazza o mi avrebbero distrutta quindi negli anni io sono sono diventata una ragazzina olio di marula sono diventata una ragazzina che si è si è fatta una corazza quindi sono diventata più forte più più spigliata ho cercato comunque di crearmi una personalità una personalità più consistente ok dopodiché q10 di al verde mi sono fatta quindi una personalità questa cosa però non è andata bene a tutti e poi prendo l'olio di avocado non è andata bene a chi mi ha bullizzata perché sono diventata criticata soprattutto nel contesto in cui vivevo io i miei genitori dove vivono ancora i miei genitori è un piccolo centro un quartiere di palermo molto piccolo e quindi lì comunque vieni presa di mira una delle cose che io ho sempre amato di me prendo un po' di vitamina E questa pura di flower tails e la metto nel in questo composto che ho fatto adesso vi faccio vedere come diventa vedete ne ho detto veramente pochissima e mischio vedete ok dicevo io sono sempre stata appunto una ragazzina che però di una grande sensibilità questa sensibilità io l'ho dovuta un po' un bel po' accantonare perché mi creava problemi perché questa enorme sensibilità che io ho sempre avuto mi ha portato a star male più e più volte per molte cose nella mia vita da adolescente quindi io mi sono fatta appunto questa corazza e nel contempo ho sviluppato una personalità tale per cui quello che mi diceva la gente mi dice tuttora la gente mi scivola addosso mi scivola addosso della serie vi faccio un esempio dalla cosa più importante alla cosa più banale quindi dalla cosa più importante che è il modo in cui io mi relaziono a mio marito io e mio marito abbiamo un rapporto che molti definiscono strano nel senso non che siamo strani vivi e lascia vivere io non faccio le paranoie a lui lui non fa le paranoie a me per nulla noi non litighiamo mai infatti la gente ci guarda e dice ma siete strani noi non litighiamo mai perché io gli tengo cioè capita che qualche volta litighiamo e ci per stronzate ma per stronzate non per cose serie ecco per esempio lui è uno che gioca tanto fa questi giochi online liberissimo come lui non entra nel marito di come spendo il mio tempo libero io io non entro nel marito su come spende il suo abbiamo un rapporto sereno io e lui siamo sereni proprio è un rapporto non simbiotico cioè noi siamo una coppia io e lui ma siamo due individui io e lui insieme ma individui quindi abbiamo due personalità lui è una persona molto tranquilla così come molto tranquilla sono io però io ho una personalità molto spumeggiante lui è più timido ma io non ero così io sono diventata così quindi da il mio modo di vedere la vita della serie come ho detto più volte io ho quasi 41 anni quindi sono una donna adulta ho sviluppato una personalità e nel momento in cui non reagisco come gli altri vorrebbero quindi non mi comporto come secondo gli altri o mi dovrei comportare esco fuori dai binari e divento un soggetto strano io ho i capelli fucsia io non mi vesto da donna di 41 anni io mi trucco in modo strano io non ho questa ossessione per diventare madre la gente mi vede strana mi rendo conto che per molti io sono strana però questa sono io e sto bene così Mario Badescu perché prima di applicare l'intruglio uso il retinoid in squalane è una soluzione oleosa quindi umidifico il viso con Mario Badescu non è saggio parlare mentre spruzzo Mario Badescu dicevo quindi io sono strana vista strana reagisco in modo strano quindi quindi la gente mi guarda e dice ma perché questa reagisce così? per esempio io fisicamente cioè c'è chissà che io ho la mia età però io fisicamente non dimostro la mia età quindi quando gli altri mi sentono parlare o io parlo ovviamente di argomenti vari con persone che mi circondano per esempio vi faccio un esempio l'altro giorno eravamo a un paranzo di famiglia c'erano tante persone persone che mi conoscono quindi che io sto con mio marito da 12 anni quindi sono persone che mi conoscono è una signora che non mi conosce non mi ha mai visto ci siamo presentate col giorno non so nemmeno chi sia sinceramente perché mio marito ha talmente tanti parenti che piacere piacere e quindi questa signora mi parlavamo di avere figli di responsabilità lei mi ha guardato e mi ha detto eh ma dai perché poi questa è una cosa che io non entro nel merito della raccontare i cazzi miei a chiunque anche a gente che non conosco però ti capita di esprimere il tuo parere e dire che per esempio mettere figli al mondo in questo mondo di pazzi ci pensi due volte e lei mi ha risposto eh ma sei una ragazzina ancora presto per pensare ai figli e io l'ho guardata e io ho detto mi scusi ma quanti anni pensa che io abbia mi fa ma ne avrai 25 26 l'ho ringraziata per avermi fatto un enorme complimento ma si vede che non ho 26 anni cioè si vede tra l'altro ti dico che sono sposata da 12 anni portetelo il dubbio che non posso essere sposata a 14 anni insomma per dire oppure la gente che mi dice quando io giustamente faccio notare che non ho figli ho cani e per me i miei cani sono come i miei figli la gente mi ehi la gente mi guarda come se io fossi pazza sì non ho figli perché non mi è capitato nel senso non ho fatto niente per impedirlo ma non è capitato e se non dovesse capitare non mi sparo di certo cioè io sono una donna completa a prescindere dal io che io metta al mondo figli oppure no io e mio marito siamo una famiglia siamo felici lo stesso sia che io riesca a procreare che no io sono una donna mi sento una donna completa felice a prescindere quindi e questa è un'altra cosa con cui ho dovuto imparare a fare i conti ma questa non è il primo video in cui ne parlo questa è una cosa con cui ho dovuto imparare a fare i conti il giudizio della gente la gente ti guarda e ti giudica solo che c'è un piccolissimo particolare io del giudizio della gente me ne fotto e me ne sono sempre fottuta e questa è una cosa che dà fastidio perché gli altri con i loro giudizi lanciati tipo pietre durante una lapidazione vorrebbero colpirti non ci riescono e rodono perché loro capiscono che non ti colpiscono io prima mi facevo colpire molto più facilmente rispruscio questo prima mi facevo colpire molto più facilmente adesso ok una volta che ho spruzzato questo sto mangiando Mario Badescu prendo il mio aggeggino e faccio questa cosa questa cosa è una cosa che vi consiglio di fare con il GF perché quando voi lo usate solo con l'acido dialuronico dopo un po' si asciuga mentre se lo mischiate come faccio io vedete come è diventato tanto non cola è diventato una specie di gelino con tutti gli olietti carini carini prendo la palettina lo metto sull'impugna sul manipolo schiaccio e comincio dicevo io dei giudizi della gente me ne sono sempre fregata e questa cosa non va c'è questa cosa fa li fa incazzare perché loro pensano di colpirmi in realtà non mi colpiscono mica minimamente ma minimamente proprio io sono e forse è questa la grande differenza chi ti giudica chi spera di colpirti lo spera perché pensa che tu non sei soddisfatto della tua vita e quindi dici oddio riesco a colpirla perché non è soddisfatta della sua vita io sono soddisfattissima della mia vita quindi i loro colpi vanno a vuoto vanno fondamentalmente a vuoto devo stare attenta a non finire a bordo dei capelli perché altrimenti mi si sporcano siccome ce li ho puliti i loro colpi vanno a vuoto e quindi ci rimangono fottuti e tu li vedi che rosicano perché tu probabilmente quando ti fanno quella battuta ti dicono quella cosa tu perché te la dicono in faccia hanno talmente tanto faccia tosta che certe cose te le dicono in faccia da me in Sicilia si dice un anno russura una faccia significa non hanno il pudore di non chiedere determinate cose che certe cose non si chiedono certe cose non si dicono cioè per esempio il fatto dei figli tu non puoi sapere se io non posso avere figli o non li ho per scelta o perché oppure che ne so ho subito un istrettomia tu non lo puoi sapere non porto scritto un cartello in fronte con scritto subito un istrettomia non è il mio caso però può succedere oppure io ho una ragazza una donna ha avuto molti aborti certe cose non le devi chiedere questo è anche un video che ha fatto Clio tutte quelle ragazze e quelle donne che poi Clio ha avuto la bambina però dico Clio quando ha avuto l'aborto c'erano persone che le facevano dei commenti è una cosa brutta da dire non si chiedono queste cose così come non si giudica una persona perché tu non puoi sapere non sai chi hai davanti non sai il vissuto di quella persona nel frattempo sono molto credibile mentre faccio questi discorsi profondi dicevo tu non puoi sapere il vissuto di quella persona non puoi e poi spalmo non puoi conoscere il dolore il il percorso non lo puoi sapere quindi non lo dì non chiedere non chiedere perché non devi chiedere è poco carino poi prendo questo sempre qua e faccio così e comincio ti accendi? sì grazie e comincio sul naso labiale insistendo nelle zone in cui ho i cedimenti quindi qua vedete che io ho questi solchi qua questi sono i cedimenti dicevo tu non puoi sapere il vissuto di quella persona non puoi sapere quanto dolore si porta dietro i traumi non puoi sapere se per esempio si fa i capelli fucsia non parlo di me perché magari da ragazzina è una persona insicura o le piace essere al centro dell'attenzione cioè tu non puoi sapere nulla tu non puoi giudicare una persona dall'involucro soprattutto se non conosci quella persona non puoi giudicare la sua anima quello che è all'interno perché è è riduttivo però viviamo purtroppo in una società che è apparire piuttosto che essere e quindi niente questa sono io con i miei pregi i miei difetti il mio modo di di vedere la vita le mie scelte e il mio essermi creata questa corazza e fottermene del giudizio altrui è bellissimo fottersene del giudizio altrui ragazzi non potete capire quanto è bello perché gli altri fondamentalmente pensano che ti colpiscono invece voi dovete imparare che voi siete voi stessi e siete voi stessi a prescindere da tutto quello che vi circonda ed è stupenda questa cosa è stupenda e imparare questa cosa vi aiuterà nella vita a non soffrire quindi a avere una soddisfazione personale che va al di là di quello che è la società di quello che ha stabilito per voi cioè la società chi è che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato per voi chi è che stabilisce chi dovete essere chi dovete amare chi dovete nessuno nessuno e dovete pensare questo la vita è una sola altra possibilità non c'è quindi chi volete essere volete essere qualcuno che si uniforma a quello che la società ha deciso per voi o volete essere qualcuno che è veramente felice io propendo per la seconda ipotesi perché ve lo ripeto la vita è una sola non parlo se no mi mangio Mario Badesco ok adesso prendo quello che resta qui lo faccio scivolare scivola ecco lo faccio scivolare e lo passo dopo aver di nuovo umidificato il viso lo passo ok allora mi concentro su guance e tutto il resto così da farlo assorbire il contorno occhi lo lascio ancora lo passo anche sul collo ricordatevi sempre il collo ragazzi perché il collo fa parte di tutto il resto un pelo dico quindi la vita è una e una soltanto sta a voi decidere come quando e perché viverla chiamare come vivere i rapporti di coppia e volutamente dico chiamare perché quando voi amate qualcuno e lo amate profondamente ve ne dovete fregare se la società dice che dovete essere etero per essere normali perché la normalità non esiste dovete amare le persone non gli involucri quindi non è importante se etero se gay se trans se gender fluid quello che volete dovete amare chi desiderate perché ve lo ripeto la vita è una sola è una sola e nessuno vi regala una seconda possibilità nessuno ve la regala allora sul contorno occhi sto facendo poco 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 perché come vi ho detto quest'occhio vedete è ancora parecchio gonfio quindi lo faccio proprio volutamente poco poco perché in questo periodo il mio contorno occhi è super delicato quindi 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 questa è questo è quanto io spero che sempre i miei contenuti siano gradevoli tra l'altro mi devo fare le sopracciglia ho ho i peli solo che mi scoccia oggi mi scocciava proprio però avevo voglia di fare questo video perché a volte mi viene il dubbio che io non parlo moltissimo di me cioè parlo di prodotti però di me non parlo molto ho fatto qualche video anche spiegandovi un po' come sono le mie idee su determinate cose le mie paranoie i miei problemi problemi poi non è che ho tutti questi problemi ok e adesso ok chiudiamo Mario Badescu che già ce lo siamo mangiato a sufficienza ecco adesso faccio questo qua io lo uso lo userò un'altra volta perché la plastica allora io in teoria i bicchieri di plastica non li compro quasi mai però questi bicchierini qui li ha presi mia mamma perché mio papà è fissato fissato con il caffè in questi bicchierini qua io non li uso normalmente perché prendo il caffè nelle tazzine di vetro e allora ora dopo che ho fatto tutto questo ambaradan di passo a con turnocchi e crema allora vi farò una recensione più approfondita di questi prodotti della now buy ragazzi io li sto semplicemente adorando adorando tutti i prodotti di questa linea li sto adorando veramente sono favolosi ok peraltro ne serve veramente pochissimo di questo ne serve veramente pochissimo perché dovete sempre concludere con contorno occhi e crema sempre a prescindere da tutti i prodotti che usate prima perché contorno occhi e crema concludono la skin care ed è importante che ci siano allora l'acido caloronico fa un po' di pallini però non è l'importanza l'importante è che viene assorbito vedete no non lo riuscite a vedere comunque fa qualcuno di questi pallini nulla di che ok allora io devo pulire le ciglia perché altrimenti il contorno occhi mi finisce dentro gli occhi e non è proprio una cosa bella dopodiché prendo la mia crema notte anche se notte ancora non è ne basta veramente pochissima di questa e questa fa una pelle super setosa è quella prime recovery della now bay a parte che questa crema rinfresca proprio tantissimo proprio la mettete e non la mettete sui capelli perché non serve la mettete e vi sentite la pelle super rinfrescata proprio è è quasi setosa una cosa proprio spettacolare adoro questi prodotti per questo inverno penso che prenderò anche la crema giorno che però per l'estate mi sembrava troppo grassa e quindi non l'ho voluta prendere anche perché sto finendo un'altra crema giorno che però non mi ha entusiasmata più di tanto benissimo io vi ringrazio per essere stati con me spero che questo video vi sia piaciuto vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao